Ancora Castellini, no? No, niente, passiamo verso l'altra roba della stanza dove due anni le tarte lumi e ninja si cominciavano a muovere si vedeva di cui si vuole che facevano e rinforzano il salino, il salino rosso e non gli disegni per promessi partire tutta la vita tutti i treni che sono non messi in movimento andando a destra e a sinistra salivano su un sacco e poi non so, ma si è passato sui 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 su